Un capillare servizio di controllo del territorio è stato messo in campo nelle zone periferiche di Taranto dai carabinieri del comando provinciale Ionico. L'attenzione dei militari si è concentrata in particolare nelle zone costiere. Le immagini che vedete si riferiscono alla borgata del tramontone, in costante perlustrazione nella zona 5 pattuglie e 2 motociclisti. Lo scopo è stato quello di evitare assembramenti come previsto dall'ordinanza emanata dal sindaco di Taranto. La presenza dei carabinieri sul territorio è iniziata alle prime ore della Pasquetta. Il servizio messo in atto dai militari è stato anche un deterrente per scoraggiare chi complice la bella giornata di sole primaverile avrebbe potuto infrangere le regole. In realtà qualche veicolo di troppo è stato notato anche in relazione alle restrizioni del momento. Numerosi controlli effettuati anche per verificare la cosiddetta autocertificazione. Una Pasquetta blindata dunque e inconsueta che ha costretto i tarantini in casa, un sacrificio necessario, forse reso ancora più doloroso da un mare cristallino ed un tiepido sole che ha finito per scaldare il cuore, pensando al prossimo lunedì dell'angelo che si spera possa essere in libertà.